Ho dovuto fare giustamente tutti gli aggiornamenti con i telegiornali. A te. Una palazzina crollata, vedete, nel casertano per chi si fosse appena collegato. Mi date poi l'audio di Vincenzo, se c'è questa esplosione di San Felice da Cancello che è avvenuta intorno alle 6, 6 e mezza questa mattina. I due anziani vivono in questa palazzina. Lo state vedendo alle spalle del nostro Vincenzo Perone, crollata. Si sono alzati, hanno acceso la luce e, complice, il gas che ormai aveva saturato tutta casa, tutta la zona dove loro abitavano, ha fatto da detonatore provocando una fortissima esplosione. Una vera e propria bomba. È stato un buato enorme e sono arrivati subito i soccorsi, ma potete immaginare le difficoltà che ci sono adesso. Ad estrarre una donna, la moglie, che è viva, ha chiesto aiuto ai vigili, la stanno aiutando proprio perché attraverso la sua voce cercano di capire dov'è e attraverso tutte quelle che sono le strumentazioni. Siamo in diretta, in diretta con il nostro Vincenzo Perone, vediamo le immagini, non so, non importa, mettetemi intanto il canale in diretta, tanto lo raccontiamo noi quello che è successo fino a che non ripristinate l'audio. Per cui mettetemi pure il canale in diretta, state vedendo che continua ad arrivare la protezione civile, i vigili del fuoco sono veramente in tantissimi i carabinieri che aprono e chiudono quei portoni anche per aiutare i soccorritori e soprattutto limitare poi anche in qualche maniera quella che è la sensibilità del racconto di questi momenti. Momenti fatti di grande tensione, di grande paura e anche di grande speranza. Rimaniamo per cui collegati su questo canale in diretta, per favore, insieme a Maria Teresa Ruto. Maria Teresa, tu dalle 10 stamattina stai seguendo con noi questi soccorsi. Dobbiamo veramente sottolineare il lavoro di tutti, lo dicevamo appunto dei vigili del fuoco, ma anche di cui in questo momento sta dialogando con la signora per tenerla sveglia, per darle una speranza, per far sì che sia lei stessa ad aiutarsi alla vita in questo momento così drammatico e così difficile. Penso anche ai parenti e ai familiari che stanno vedendo le immagini, che magari l'hanno saputo questa mattina ovviamente in diretta dalle televisioni, come stanno vivendo. C'è una grande mobilitazione perché queste erano due persone straordinarie che facevano volontariato, erano molto conosciute, lui fa parte della protezione civile, quindi ovviamente sono accorsi tutti quanti e vorrebbero togliere mattone per mattone proprio con le mani, ma si sta facendo veramente un grandissimo lavoro. La nostra preoccupazione è per lui, speriamo che sia solo svenuto e che comunque le sue condizioni lo possano farcelo trovare in vita. È sempre difficile, io mi ricordo ero piccolissima quando abbiamo vissuto Vermicino e di lì è nata una televisione che forse da una certa parte ha aiutato sicuramente, dall'altra parte ci rende partecipi di un dolore forte. perché sembra il dolore di tutti quanti noi. Allora, Vincenzo mi sente? Vediamo un attimo. Grazie, allora, questa è la finestra sulla quale noi stiamo raccontando quello che è successo questa mattina dalle 6 e 30. Ci sono tantissimi anche video che si stanno sviluppando, poi si trovano anche su internet, anche sul boato, su questo enorme rumore che si è sentito, come fosse una vera e propria bomba. Stanno cercando di fare di tutto per tirare fuori una donna. Samantha, avevamo tutta un'altra scaletta, oggi stiamo raccontando. Eh, ma fate molto bene perché sono momenti sonori importantissimi, soprattutto per cercare di tirar fuori le due persone vive. La signora, come giustamente ha detto Maria Teresa, è vigile, è viva e stanno cercando di raggiungerla. Il punto interrogativo è sull'uomo, perché non sanno dove si possa trovare e queste ore sono fondamentali perché spero che facendo uscire la signora, la signora possa in qualche modo dirigere le ricerche verso il marito. Certo, allora, mi dicono che l'audio è buono con Vincenzo, vedo che sta parlando con... Cosa? C'è una domanda che voglio fare, ma proprio... Ma sentiamo prima però se riusciamo ad avere l'audio di quello che sta dicendo il Vigile del Fuoco. Apriamo un attimo il collegamento? Vincenzo, sei in diretta! Vincenzo, Vincenzo, sei in diretta, sei in diretta, mettiti l'auricolare così... Sì, eccomi Eleonora, stavo cercando di parlare con il caposquadra di Vigile del Fuoco. Mi diceva che tra poco uscirà il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta a darci ulteriori aggiornamenti. La situazione è quella che ormai conosciamo e che abbiamo acclarata. Si sta cercando di avvicinarsi il prima possibile, con la massima sicurezza possibile e con la massima, appunto, celerità, il prima possibile avvicinarsi alla signora Giuseppina per poterla estrarre dalle macerie. E ci si augura veramente la speranza. Il sindaco ha detto speriamo in un miracolo. Per entrambi i coniugi, Mario Sgambato e Giuseppina Sgambato. Quindi la situazione è in fieri e in continua evoluzione, come vi stiamo raccontando. E appunto ogni 5-10 minuti il caposquadra ci dà il bollettino, l'avanzamento, lo stato di avanzamento dei loro lavori e ci ha precisato ulteriormente, ci ha sottolineato che le operazioni sono difficili, vanno a rilento. Perché lo vedete, la palazzina è implosa su se stessa. Il piano rialzato dove abitavano i coniugi è quello che praticamente è finito sotto la strada. Quindi per cercare di avvicinarsi al punto, qui hanno individuato la signora Giuseppina, è difficile, è complicato. Bisogna soprattutto mettere in sicurezza non soltanto la signora come potesse, si volesse creare una volta che la tuteli e poi anche il lavoro dei soccorritori che si devono avvicinare e non devono essere colpiti, non devono essere coinvolti da ulteriori crolli che come sappiamo in questi casi di una palazzina di cemento armato parzialmente crollata, molto probabilmente, lo abbiamo detto più volte, per una fuga, per una saturazione di gas e quindi per una esplosione successiva dovuta appunto all'esplosione del gas. sono operazioni complicate che vanno fatte in modo chirurgico con sagazia, con esperienza, con perizia che ovviamente sappiamo è quella che appartiene al corpo dei nostri vigili del fuoco. La voce di questa donna sono già passate più o meno un paio d'ore, vero Vincenzo? Sì, sono passate, sì, sì, da quando l'hanno individuata probabilmente ancora non sono passate ma siamo quasi a due ore, sì. Però, ve lo abbiamo detto, i mezzi dei vigili del fuoco si avvicendano, prima c'erano quelli del primo soccorso, poi sono arrivati quelli che hanno attrezzature più di struttura, strutturali e quindi pali telescopici e quindi anche le tavole di ponte per poter creare delle volte dei solai, diciamo, dei soccorritori per poter avvicinarsi al punto dell'identificazione. Davanti a te sono arrivati altri mezzi? Arrivano continuamente, arrivano continuamente, Eleonora, ci possiamo girare. Sì, guardate, sono tutti mezzi dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza, che ovviamente mantengono qui l'ordine pubblico, ci sono tante persone dietro le transenne che sono state create, sono tantissimi i mezzi dei vigili del fuoco, tutti estremamente specializzati per il soccorso e soprattutto per poter avvicinarsi a delle persone che sono state individuate e che sono vive sotto le macerie, come abbiamo visto fare purtroppo in tanti altri casi analoghi e soprattutto nei cataclismi, nei terremoti dai quali è colpito il nostro paese, la zona sismica. Ad esempio, questa automobile che stiamo vedendo, cioè è arrivato tutto, cioè è stata tolta? Sì, Eleonora, questa automobile, no, 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 non è che sia arrivato qui il calcinacci abbiano scavalcato l'altro palazzetto che è adiacente al palazzetto crollato, no, quest'auto era all'interno della corte, del cortile del palazzina dell'832 di Via Napoli e poi ovviamente i soccorritori per avere maggiore spazio e maggiore agibilità nelle manovre di soccorso e quindi di avvicinamento appunto al fabbricato e di cominciamento della prima parte della rimozione delle macerie per poter arrivare ad individuare la signora Giuseppina e si spera vivo, lo si spera veramente, anche suo marito Mario l'hanno rimossa, l'hanno trasportata qui sulla strada. Quello che invece è stato un effetto dell'esplosione è il portone dell'828, lo vedete, vedete, è il palazzo a fianco e i vetri sono completati, anche la struttura, il telaio del portone è completamente diverto e questo è stato un effetto dell'esplosione, un'esplosione enorme, un buato fortissimo alle 6.45 del mattino che è stato avvertito da tutti, da moltissimi abitanti di Cancello Scala. Ok, io alle mie spalle se la mettiamo in onda, vedete, sulla destra della palazzina sotto l'enorme lastra del tetto eccolo lì, c'è la macchina che hanno tolto immediatamente l'esplosione avvenuta sulla parte sinistra potete immaginare la forza di questa esplosione, guarda com'è stata ridotta quell'automobile che non si trovava sotto a dove è avvenuta probabilmente dove c'era l'interruttore, dove è avvenuta questa bomba che si è sentita questa mattina alle 6.30 in questa palazzina, guardate adesso con l'automobile come l'abbiamo mostrata era molto distante, però potete immaginare la forza di questa esplosione che è avvenuta Alessi, Roberto? Posto anche una squadra degli USAR, Urban Research, praticamente una squadra che addirittura vengono allenati dalle Nazioni Unite per intervenire in questi casi, quando ci sono cittadini sepolti sotto macerie urbane e sono altamente specializzati e magari Perrone può anche dirci se sono arrivati in questi USAR o meno? Non so, Vincenzo? C'è un'altra cosa che io volevo invece chiedere sempre a Perrone, perché è abbastanza inusuale che ci sia una palazzina così vicina agli altri stabili, perché questa veramente, adesso stiamo aspettando notizie del marito e della moglie che spera che si trovino entrambi, però è di una vicinanza pazzesca, è inusuale, poi magari esisteva già, di solito c'è sempre quelle distanze che vengono consentite, fatto salvi i diritti di terzi dove uno non può avvicinarsi troppo, però è molto schiacciata dentro, veramente poteva finire in tragedia. Mamma mia, guarda che cosa è successo lì, allora Vincenzo mi dicono, l'audio adesso va ripristinato, giusto Vincenzo non mi sente? Sì, eccomi, eccomi Eleonora, sono qui, sono qui. Vincenzo, sì, aveva fatto una domanda Giovanni e anche Roberto, vedo che si stanno muovendo più in fretta, sta succedendo qualcosa? No, volevo chiedere, sono Giovanni e te. Aspetta perché forse ci abbiamo, dimmi, dimmi, li ho visti muoversi? Sì, guarda, guarda, i vigili del fuoco, lì c'è un gruppo elettrogeno, vedete questo filo, è un gruppo elettrogeno, serve a dare, diciamo, una elettricità che non è quella della rete normale, lo vedete, questa è una cellula fotoelettrica, la vedete, questa cellula sta correndo, molto probabilmente serve per, come un occhio di bue che noi conosciamo bene, per le nostre strutture RAI, serve ad avere una luce focalizzata su un punto, una luce fortissima, molto probabilmente questo è il motivo per il correre perché è stato forse, sì, forse ci siamo, sì. Potrebbe essere una buona notizia questa, no? Cioè, vedo... Sì, potrebbe essere una buona notizia. Però siamo ancora, diciamo... Dimmi, dimmi, Vincenzo. No, dicevo, ovviamente corre perché vuole arrivare il prima possibile a fare luce sul punto che è stato individuato, che si chiede essere quello probabilmente dell'individuato. Rispetto a prima, no? Hanno un punto ben preciso perché prima passavano i tubi con lo scandaglio per capire sotto le macerie dove agire, dove andare a recuperare questa donna, adesso se invece arrivano con una luce nel dettaglio, diciamo, nel punto esatto potrebbe essere veramente una cosa molto buona, insomma, un indizio almeno che fa beh sperare, giusto? Tutto farebbe propendere. Tutto farebbe propendere per quello che stai dicendo. Sì, questo è un momento della speranza. Anche perché se in questo momento i Vigili del Fuoco hanno ritenuto di prendere queste lampade particolari, vuol dire che devono vedere meglio appunto la situazione e inquadrare probabilmente il punto dove dovrebbe esserci questa donna o anche il marito. Quindi sono momenti molto convulsi in cui adesso stanno veramente lavorando al millimetro i Vigili del Fuoco, un grande impegno, un grande lavoro, un grande sforzo e noi dobbiamo solo sperare che tutto si risolva nel miro dei modi. Eh, ce lo auguriamo, eh, Samantha. E leonora, volevate fatto una domanda. Io sto pensando anche alla paura in questo momento la signora starà vivendo, ma soprattutto anche la paura di non sentire notizie del marito. E quindi la tragedia nella tragedia, almeno dal punto di vista umano. Ma questo l'avranno tranquillizzata probabilmente mentendo. Sì, certo. Non lo so, speriamo veramente che possono trovare anche lui vivo e che magari, non so, magari si è protetto anche lui in una bolla, no, tra le macerie e veramente la speranza c'è fino all'ultimo, è chiaro. Anche se più tempo passa e più l'ansia cresce. Vincenzo, dicevi che gli volevi fare una domanda a loro, ai soccorritori. No, voi mi avevate fatto una domanda. Ah, sì, sì, beh, Giovanni e anche Alessi. Una domanda, Perone, è normale che ci sia una casa comunque grande all'interno di un cortile così a ridosso perché poteva veramente finire in tragedia delle altre abitazioni? Questa è un'osservazione guardando le immagini, non è nessuna denuncia, non vuole denunciare nulla perché non ne so nulla. Guarda, Giovanni, forse la profondità della telecamera può indurre, diciamo, in errore rispetto alla prospettiva. Vedi, questa è una tipica corte di una palazzina qui in provincia di Caserta, un cortile, però il palazzo che voi vedete integro è ad una distanza di almeno 6-7 metri dal muro perimetrale opposto. Sì, sì, ovviamente voi non lo riuscite a vedere dalla telecamera perché non è introdotto. Anche perché se fosse tanto vicino sarebbe stato raggiunto dall'esplosione. Evacuato, certo, evacuato, assolutamente sì. Dall'esplosione sicuramente è stato raggiunto nel senso che anche qui ci sono pezzi di vetro e calcinacci e sicuramente è stato messo in sicurezza ed è stato evacuato. Se vedete ci sono degli infissi, degli scuri che probabilmente sono stati penetrati dai calcinacci che si sono fiondati, che sono schizzati dall'esplosione. Però la distanza dal muro, dalla parte opposta rispetto a quella dove noi siamo posizionati è tale che probabilmente non si può dire che non ci fosse un margine di sicurezza o comunque un margine previsto urbanisticamente per una costruzione di un altro palazzo. Mentre come vedete sia a destra che a sinistra non ci sono strutture. Allora qui un'ans appena arrivata dice che questa donna sta rispondendo ai richiami del vigile del fuoco, questa donna di 74 anni rimasta intrappolata nelle macerie che state vedendo ora in diretta e dice che sono circa 50 i vigili del fuoco al lavoro con attrezzature di ultima generazione. Qualcosina abbiamo visto passare anche prima, ad esempio questi lunghi tubi io non li avevo mai visti, insomma nelle tante dirette che abbiamo fatto o anche nel racconto non solo dei palazzini ma purtroppo anche durante i post remoto. Dunque si sta puntellando, questo dicono, tutta la zona circostante, il luogo dove è stata individuata la posizione della donna per evitare ulteriori crolli. Un po' Vincenzo quello che dicevamo prima, si sta lavorando veramente molto molto piano perché il rischio è che se tu tiri su qualcosa poi crolli. Ecco, per cui già sarà messa immagine una situazione molto molto complessa e sai sono veramente come dicevi tu operazioni chirurgiche, cioè è un attimo no? Bisogna avere, queste sono squadre specializzate, queste sono eccellenze che noi abbiamo nel nostro paese, vigili del fuoco, protezione civile, ecco sanno come intervenire. Guardate anche la capacità che hanno di organizzarsi e di coordinarsi tra di loro perché se tu ci giri la telecamera comunque arrivano tutti i loro mezzi, sanno come mettersi, come si devono muovere, come il lavoro di uno non deve intralciare il lavoro dell'altro. Attenzione perché qua veramente comunque stiamo anche mostrando un'eccellenza dei nostri soccorritori italiani che si muovono e sanno veramente come lavorare, ecco, come lavorare con grande, grande professionalità. Ecco, sono squadre specializzate, Vincenzo. Naturia l'audio? Questa è sempre diretta, giusto? Questo canale che mi state mostrando? Sì, Eleonora, io sto entrando nel palazzo, sto entrando nel palazzo, nel palazzo, guarda, interessato dall'esplosione. E adesso cerchiamo, ecco, stanno portando su una barella, cerchiamo di arrivare al primo piano, andare a casa di una persona che ci possa consentire di vedere questo momento. Penso che siamo ad un momento importante. Io sto salendo le scale, vediamo se da qui. Con attenzione, tu sai. Sì, facciamo sempre attenzione. Lo vediamo dalla tromba delle scale, vedete? Adesso c'è una concentrazione lì dei vigili del fuoco. Ecco, facciamo... E hanno portato quelle barelle a mano. Credo che serva anche molta sensibilità, no, Vincenzo? Ovviamente, Eleonora, staremo molto attenti. Staremo molto attenti se dovessero tirar fuori la signora ad interrompere il video. Non faremo vedere immagini che non siano... Bravissimo, Vincenzo. Te ringrazio. Che abbiano un contegno dell'informazione. Bravissimo, ci teniamo, lo sai, moltissimo a questi aspetti e alla sensibilità nel racconto. Giovanni lavora con noi da tanti anni e sa che, insomma, non... Assolutamente. Non amiamo... È bello anche questa frase che ha detto il Perrone, perché comunque è importante... Sì, è molto importante questa attitudine anche a non evidenziare dei momenti di grande criticità personale. Allora, Vincenzo, mi vuoi dire qualcosa? Io avevo anche delle storie da racconto. Sì, Eleonora, io sto continuando a salire le scale per vedere se c'è una posizione in cui possiamo dare meno fastidio. Ecco, vedete, Mariano, se riesci a salire. Mariano, sali piano piano, si vede l'ambulanza da qui. E ci sono momenti di grande attesa. Signora, possiamo, siamo della RAI, possiamo venire a vedere dal balcone. Mariano, vieni. Mariano, allora, io intanto chiedo anche di aprirmi questa mamma, la quale io tenevo. Dimmi che cosa sta succedendo, Vincenzo, perché non riesco a comprendere se mi aiuti si stai sentendo. Sì, Eleonora, adesso siamo su un balcone di una casa privata. Un attimo che arriva l'operatore e vedrai tutto. Abbiamo chiesto la cortesia a degli abitanti. Ecco qui, vedete assolutamente tutto. Diciamo, le parole forse rendono meno, le parole rendono meno di quello che state vedendo con i vostri occhi. Vedete i Vigili del Fuoco, ce n'è uno sulla sinistra seduto, uno di quelli che è intervenuto proprio nei primissimi momenti, che si sta riposando un po', veramente estremato. Ecco, continuate a vedere, quelli sono dei contenitori, dei secchi, di detriti che vengono dai Vigili del Fuoco, vengono spostati a mano con grande calma, con grande perizia, con grande sagacia. Loro sono abituati e addestrati a far questo. Non devono far sì. Vedete, quello col casco argento è il comandante dei Vigili del Fuoco. Lo si distingue dagli altri, dal casco rosso che è il capo squadra e lui è lì a coordinare in prima persona, il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, le operazioni. E ci sono tutti i vigili, ce ne sono alcuni al di sotto, al di sotto lo vedete di questo solaio crollato, imploso su se stesso, quelli che sono i tubi che tu mi dicevi, guarda, guarda, i tubi che tu avevi visto sono quelli che stanno puntellando, sono dei tubi telescopici che poi si allungano e stanno puntellando quella struttura, quel solaio di quel balcone. Perché se no cade tutto, certo. Perché qualsiasi cosa cade, significa che questo può generare ulteriori crolli. E questo ovviamente può essere di grande documento per il lavoro dei soccorritori, di coloro che stanno cercando di avvicinarsi alla donna, la signora Giuseppina, per estrarla viva dalle macerie. C'è stata un'interlocuzione, un parlarsi tra Giuseppina e uno dei vigili del fuoco, che è proprio addestrato a far questo, ad avere un contatto, un contatto con persone che sono sepolte sotto le macerie ancora vive, ad avere un contatto e soprattutto a tranquillizzarla, perché è fondamentale il tranquillizzare, il rassenerare, il rasserenare il più possibile, per quello che è possibile una persona che sta vivendo questi momenti drammatici. Guardate quel palazzo, guardate il palazzo di fronte. Adesso si vede meglio che ha una distanza di sicurezza dal palazzo crollato e quindi ci sia stato bisogno dell'evacuazione delle persone, ma non ha motivo di temere per la struttura, un palazzo di cemento armato, ma è come se fosse stato bersagliato da questi detriti, da queste schegge, come se fosse stato cannoneggiato, proprio lo vediamo. Quelli sono tutti buchi, fessure che sono state create dalla violenza dell'esplosione. vedeteci, un collega, un operatore che è lì e degli abitanti del palazzo di fronte che anche loro stanno assistendo a queste operazioni di soccorso. Ma ritorniamo sul focus del nostro intervento, del intervento dei soccorritori. Lo vedete, si alternano diverse squadre dei vigili del fuoco, come abbiamo visto i tubi telescopici hanno puntellato il solaio di un balcone e il palazzo l'ha fabbricato in cemento armato. Lo vedete che è in cemento armato perché ci sono proprio sia le travi che i pilastri di cemento armato che sono armati dai tondini di ferro e ci danno proprio il senso di un palazzo di cemento armato. Pensate quanto deve essere stata potente, quanto deve essere stata distruttiva questa esplosione che ha fatto sì come una scossa tellurica che il palazzo si piegasse su se stesso, implodesse. Perché di lui ancora non si sa nulla, è la protezione che ha avuto questa donna, vedete i soccorritori in atto che stanno cercando di tranquillizzare e di dirle ti tireremo fuori. però ecco, di fatto è successo una specie di miracolo perché se adesso noi possiamo vedere, guardate dall'alto, le immagini dell'esplosione, come è avvenuta, la forza di questo boato che c'è stato e come dire il caso fortuito di essere stata veramente protetta in qualche incastro strano che sarà ancora in grande equilibrio lì, dall'esplosione. Io veramente credo, poi tu dicevi prima il destino, ma mamma mia, Vincenzo, chi è che me l'aveva detto prima di quei due ragazzi che invece dovevano andare ad abitare lì e che però per il materasso che non ci avevano non ci sono andati di sera. Allora pensa, lì ci sono tutti i box, pensa se invece delle 6 e 15 fossero state le 8 e 15 con tutti i bambini che uscivano per andare a scuola, c'è il giardinetto, fosse stato un orario diverso. No, ma veramente comunque una tragedia, nella tragedia sicuramente l'orario in cui è accaduto, insomma erano le 6 però, 6 e mezza. Appunto, se fossero state le 8 con i ragazzini che escono, che passano dalla corte per andare a scuola. Vincenzo, a te. Sì, sì, stiamo aspettando il comandante, quello che posso mostrare, sì lo avete detto, c'è un miracoloso, un sopravvissuto miracolosamente, un miracolato come ha detto il sindaco di San Felice Accancello e questo studente di ingegneria al di sotto dei 30 anni che si sarebbe dovuto trasferire proprio al primo piano di questa palazzina, aveva anche sottoscritto il contratto di affitto ed era già sottoscritto, quindi si sarebbe potuto trasferire, avrebbe dovuto effettuare proprio il trasloco e con la moglie sposata da pochissimo e un figlio di soli 20 giorni, pensate, un neonato e si sarebbe dovuto trasferire al primo piano, quindi il piano sopra e il piano dove sono sepolti sotto le macerie i coniugi sgambato e per un motivo assolutamente fortuito che probabilmente gli ha salvato la vita e questo lo ha detto lui da studente di ingegneria perché ha detto io avrei dovuto occupare il primo piano e come vedete da queste immagini che sono assolutamente delle immagini plastiche, diciamo di uno sventramento, di un'implosione, di una distruzione, lui sarebbe dovuto andare ad abitare, ad occupare proprio il piano sopra i coniugi, cioè quello che è completamente distrutto. Stanno lì sopra, riescono a stare lì sopra Vincenzo per quei tubi di cui tu parlavi che sono arrivati prima, che vedevamo uno dopo l'altro, arrivare che hanno di fatto puntato, stanno puntellando tutta la struttura, perché altrimenti lì... Ovviamente quei puntelli, quei tubi che voi avete visto vanno a rinforzare una parte della struttura e soltanto l'esperienza di tecnici, di ingegneri che ci sono tra di loro, tra i vigili del fuoco, che sanno quanto potrebbe smottare ulteriormente una struttura che è parzialmente crollata. Allora loro vanno ad intervenire con i puntelli lì dove sanno che ci potrebbe essere un successivo smottamento, crollo. E poi agiscono con le mani nude e con questi secchi nei quali con le mani nude mettono le macerie che stanno recuperando per avvicinarsi, creando una sorta di cunicolo il più vicino possibile, arrivando a contatto con la persona che hanno individuato, che come ci hanno loro stessi confermato, il capo squadra e Giuseppina Sgambato, una dei due coniugi che abitavano in questo palazzo in via Napoli. Ecco vedete, guardate i secchi poco alla volta, ci sono entrambi i comandanti, il comandante e il vicecomandante, hanno il casco argento, i vigili del fuoco hanno il casco nero e i capo squadra hanno il casco rosso, noi li distinguiamo così. E loro sono quelli che coordinano le operazioni che sono delicatissime, perché appunto insieme a dover raggiungere la persona assolutamente, contemporaneamente nel dover raggiungere la persona che è sepolta sotto le macerie devono anche garantire la sicurezza dei soccorritori. Ed è un'operazione veramente chirurgica, delicatissima, di una grande perizia sagaccia e professionalità. All'interno abbiamo visto anche i vigili quelli con la maschera per sollevare le polveri, eccetera. Ci sono vari corpi specializzati, no? Qui Marco, che stanno lavorando. Beh, la squadra è fatta. Ma potete immaginare in quanti sono, cioè li state vedendo, in quanti sono e come riescono uno o l'altro a rispettare i loro spazi. Guardate che è complicatissimo veramente quello che stanno facendo. Ma intanto i corsi che fanno il GFO sono molto forti, molto professionali anche i corsi di preparazione. Loro in questo momento qua stanno calcolando il rischio, ma in ogni caso stanno rischiando anche di loro, perché stanno facendo questo grande lavoro. Loro sono degli angeli che stanno mettendo le pentaglie anche la loro vita per salvarne un altro. Quindi un grande applauso a questa squadra che sta lavorando in modo veramente molto silenzioso. State vedendo la squadra come sta lavorando in questo momento. Sono assolutamente d'accordo. Questi sono uomini che veramente ogni giorno rischiano la loro vita per salvarne altre. Quindi il nostro affetto, il nostro abbraccio a questi uomini che lavorano instancabilmente ora dopo ora, senza neanche poi darsi fastidio l'uno con l'altro. E cosa state vedendo dall'altro? Siamo tutti vicini all'altro. Quello che è accaduto è l'escavatore che in qualche maniera ha cercato di togliere le macerie per arrivare fino al punto dove si trova, si troverebbe questa donna. Che se non sbaglio, ditemi voi, ma mi sembra che comunque sia rimasta, forse proprio per quello si è salvata nel piano alto, no? Sembra così, no? Dalle immagini sembra così. Comunque più guardo... Come se la trave del tetto avesse tenuto con la soletta. Esatto, come se li avesse fatto da gabbia d'aria, diciamo. Comunque guardando sempre queste immagini fa impressione, cioè la potenza di questa esplosione, perché doveva essere veramente in vasa di gas questa casa, perché è proprio crollato tutto, cioè comunque è una casa importante, non è che è venuto giù un pezzo, una palazzina crollata completamente. Fra l'altro il nostro Vincenzo ce la sta mostrando dall'alto. È vero che sono in distanza, un po' a quello che si chiedeva prima, però comunque rispetto a quello che tu stai mostrando adesso, poteva essere veramente una strage, Vincenzo. Continuamento. Mi puoi chiamare però su questo numero qua. Vincenzo, sei in diretta? Mi sente? Sì, sì, sono in diretta. Scusami Eleonora, stavo parlando al telefono con il comandante. Sì, dimmi, dimmi. No, che cosa ti diceva il comandante, visto che stavi parlando al telefono? Dilo anche a noi. Ovviamente si tratta di un altro comandante che è al di fuori, i due sono con il casco argento sul teatro delle operazioni e appunto mi diceva che sempre con grande cautela stanno cercando di avvicinarsi e si stanno alternando. Loro sono in diverse squadre. Fernando, sono in tante squadre come stiamo vedendo e per cui chiaramente in collegamento poi hanno gli altri che fanno come dire da base, no? Da base. Allora, chiudiamo un attimo, usciamo un attimo dal collegamento. Che succede, Samantha? No, no, ho visto il vigile del fuoco che aveva messo un piede un attimo in fallo. Ah, no, mi sono spaventata. Non c'è il medico dentro. Allora, ok, ritorniamo, ritorniamo. Dimmi, Maria Teresa, ritorniamo pure in collegamento. C'è il medico dentro, ho visto, mi sembra di aver visto. C'è un medico dentro, Vincenzo, tu vedo l'ambulanza lì, immagino. Non sappiamo se un medico o un infermiere comunque è un operatore con la divisa arancione, quindi sicuramente è un operatore del 118. Noi siamo arrivati qui quando il teatro delle operazioni era già abbastanza avanti, quindi molto probabilmente in quel cunicolo che si è creato, in quella volta, diciamo, che si è creata, diciamo, nell'essere indene tra la potenza della distruzione e le stanze che sono sottostanti, probabilmente un operatore sanitario era già sceso per cercare in questa interlocuzione che stanno avendo con la signora Giuseppina di capire anche quali sono le sue condizioni. Ovviamente questo non lo fa noi vigili del fuoco, ma lo fa un operatore sanitario. Certo, assolutamente, è una persona preposta, diciamo, a quel tipo di professionalità, anche perché potete immaginare questa donna, 64 anni, è lì da ore e ore là sotto, dopo quello che è successo possiamo solamente immaginare, lontanamente immaginare, quello che sta provando e che sta vivendo, e soprattutto la grande forza, che hanno in questo momento i soccorritori, i vigili del fuoco, la protezione civile e le operazioni che stanno portando avanti, svolgendo dalle 6 e mezza di questa mattina per riuscire almeno ad estrarre viva questa donna. Ripeto, di lui ancora nulla. I cani molecolari immagino, Vincenzo, non abbiano ancora localizzato nessun punto. Ricordiamo, c'è il marito di questa donna di cui non si sa ancora niente. I cani sono sguinzagliati all'opera. Guardate, stanno portando una bombola di ossigeno presa dall'ambulanza. Un vigile del fuoco fanno come una catena di Sant'Antonio umana. La stanno dando da un operatore, da un soccorritore all'altro e probabilmente la daranno, insieme a quella che vedete, una cellula fotoelettrica, all'operatore sanitario. E quindi questo farebbe presagire che si sta arrivando il più possibile vicino alla signora Giuseppina. Se hanno chiesto di supportare con una bombola di ossigeno le operazioni di soccorso, questo farebbe presagire e propendere verso un avvicinamento dei soccorritori e ovviamente del medico, dell'operatore sanitario, che ha chiesto di vedersi consegnata una bombola di ossigeno che fa parte della dotazione dell'ambulanza. Quindi siamo veramente a ridosso di quello che potrebbe essere un momento topico di questa drammatica evoluzione di questo crollo alle 6.45 del mattino. per una fuga di gas e la saturazione degli ambienti di un fabbricato a Via Napoli, nella franzione Cancello Scalo, di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Grazie. Vedete, guardate il palazzo, il palazzo. Guardate il palazzo, Eleonora. Guardate, sembra cannoneggiato. Sembra cannoneggiato perché era troppo vicino. È molto vicino, sì, è sicuramente danneggiato, però ripeto, probabilmente nelle distanze equegiuste che hanno permesso che poi alla fine non accadesse nulla, tanto che, come avete potuto vedere, siamo entrati anche noi nella palazzina vicina con il nostro Vincenzo Perone e il tuo operatore che ringraziamo. Allora, Vincenzo, buon lavoro, tutti gli aggiornamenti, poi chiaramente tu li seguirai con la TGR per i TG, per i telegiornali. Noi ringraziamo i nostri ospiti. Vogliamo chiudere. Devo chiudere perché devo dare la linea ad Antonella Credici. Grazie. Grazie, grazie Eleonora. Ciao, ciao Vincenzo, vorrei chiudere senza sigla, in silenzio e veramente con il pensiero e la speranza che possano trovare tutti e due vivi, anche il marito di questa signora e che li possano estrarre vivi da quelle macerie. Grazie.